Il virus in Abruzzo cresce nei giovani e diminuisce negli anziani. I dati abruzzesi a livello generale sono in discesa ma sono aumentati casi nella fascia tra i 12 e 19 anni con la riapertura delle scuole dove non vengono usate più protezioni. Per quel che riguarda i dati della provincia dell'Aquila nella settimana tra il 19 e il 25 di agosto c'era stato sì un aumento del 27 per cento in coincidenza con il ferragosto ma poi i dati sono andati a scendere come precisa il dottore Enrico Gianzante direttore del servizio di igiene e dalle settimane successive al ferragosto prima si è registrato un calo del 9 per cento poi un ulteriore calo del 23 per cento e poi un 12 per cento sono dati però di settimana in settimana. Allo stato attuale nella provincia dell'Aquila la situazione è piuttosto tranquilla abbiamo a tutt'oggi dei dati in sempre leggera decrescita il fatto è che comunque per l'autunno ci attendiamo visto che comunque l'andamento è stagionale un aumento speriamo non sia un aumento cospicuo ma un aumento limitato grazie ai vaccini. Per le vaccinazioni c'è stato un periodo di stasi e le quarte dosi non sono mai decollate l'invito però rimane quello di vaccinarsi e di fare anche l'antinfluenzale con la campagna che dovrebbe partire già il prossimo 11 ottobre. La situazione attuale dimostra che non moltissimi si stanno vaccinando siamo per quanto riguarda le quarte dosi e per le categorie che possono effettuarla intorno al 16 per cento quindi dati ancora abbastanza bassi. L'invito è quello comunque di vaccinarsi di vaccinarsi che ogni vaccino ci sono a disposizione. A breve uscirà anche un chiarimento da parte dell'istituto superiore di sanità del ministero della salute che indicherà l'utilità della vaccinazione in qualunque formulazione venga effettuata e comunque sono ottimi vaccini a disposizione e la popolazione soprattutto in vista dell'outbund o è invitata a farla. Come è invitata a fare l'antinfluenzale? Voi ormai battete anche su questa campagna che a breve insomma inizierà? Assolutamente probabilmente dall'11 ottobre inizierà anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale e sicuramente come nell'anno passato potranno essere effettuate le due vaccinazioni in contemporanea. Permettetemi di aggiungere anche che per le categorie a rischio diciamo per gli ultra 65 anni sarà importante effettuare anche la vaccinazione antipneumococcica.